Fino a quando perdurerà la cura di Dio nei confronti dell'uomo? Fino a quando il Signore Gesù che cammina con noi? Fino a quando prenderà cura di noi? La risposta del Vangelo non lascia adito a dubbi. Fino alla fine del mondo. Passeranno i cieli, passerà la terra, verranno cancellate le speranze umane, ma la parola di Dio è più grande di tutto e non passerà. E Lui sarà il Dio con noi, il Dio Gesù che cammina con noi. Ma qualcuno potrà dire, ma cosa sta dicendo lei? Dico questo. Non ci sarà giorno della nostra vita in cui cesseremo di essere una preoccupazione per il cuore di Dio. Lui si preoccupa di noi e cammina con noi. E perché fa questo? Semplicemente perché ci ama. Capito questo? Ci ama. L'ancora è quello che i navigatori, quell'istrumento, buttano sulla spiaggia e poi si aggrappano alla corda per avvicinare il barcone, la barca, la riva. La fede nostra è l'ancora in cielo. Noi abbiamo nostra vita ancorata in cielo. Cosa dobbiamo fare? Aggrapparci alla corda. È sempre lì. E andiamo avanti perché siamo sicuri che la nostra vita è come un'ancora che è nel cielo, in quella riva dove arriveremo. Grazie. 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 Grazie.